Musica Il giallo e il rosso, secondo voi che cosa fa? Bravissimi Catturare un altro che catturare Avete capito? Noi abbiamo un tesoro E molte volte quando andiamo a fare le spese Compriamo i prodotti da forse Non sappiamo da dove vengono e come sono fatti Silvi, Silvi e me Silvi e Silvi e me Silvi però da piano Silvi però da piano Da vedere c'è Dobbiamo insegnare ai nostri bambini A mangiare sano A mangiare i prodotti coltivati Dal nostro territorio Giorarsi a piccoli passi Una grande e bella manifestazione Una bellissima giornata di settembre Quelle giornate che Solo queste terre possono dare E regalare Grazie a tutti Grazie a tutti Appello a tutti coloro che voteranno all'iniziativa Migliorarsi a piccoli passi Per far vincere l'intera squadra serviranno solo i voti all'album E quei voti verranno sommati A quelli della giuria Tecnica Decreteranno il vincitore della squadra Per il premio di Bruxelles Cioè la miglior foto Faranno i like Sulle singole foto Che sempre sommati a quelli della giuria Tecnica Decreteranno il bambino o la bambina Che vincerà il viaggio a Bruxelles Per 5 persone Offerto da L'onorevole Barbara Matera Perfetto Allora votate Votate tutti Andate sulla pagina a migliorarsi Cliccate mi piace Cliccate sui gruppi Cliccate anche sulla foto singola Un abbraccio Ciao Alla prossima Allora